Bentornati a tutti. Oggi è martedì, 26 marzo 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Ariete. Cari Ariete, quella che parte oggi per voi sarà una settimana fortunata. Una delle più fortunate di quest'anno. Avrete infatti la luna dalla vostra parte che vi porterà tante occasioni da sfruttare al meglio. Da questa giornata la luna vi rema contro dal segno nemico amatissimo della bilancia, ma tuttavia un tono vitale eccellente vi accompagna per tutta la giornata. Il sole, vostra stella guida, in felice posizione vi rende splendenti di salute e bellezza. Chi di voi pratica lo sport ottiene ottimi risultati. Soltanto in serata potreste accusare un po' di stanchezza in più e sentire il bisogno di riposo e comfort. Declinerete inviti che vi verranno offerti da amici e parenti. Luna piena opposta al vostro segno e ai vostri inquilini sole e mercurio, la razionalità, mentre lei dal volto pallido e sognante si perde dietro sogni d'amore e ispirazioni creative. In gioco anche Plutone in se stile al vostro segno, che vi parla di amicizie birichine, del tipo sesso senza impegno, se vecchi rancori tornano a galla è ora di eliminarli. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6, attività, 9, finanze, 8, benessere, 7. Toro. Cari toro, sarete un po' nervosi durante la settimana a causa di Marte che vi metterà a dura prova. Ma state tranquilli, Venere, soprattutto se siete single, vi farà trascorrere un bel fine settimana. Il cielo è per voi molto sereno, solo con qualche piccola nuvola di passaggio. Solo Plutone può infatti darvi qualche pensiero in più nella gestione della vita familiare e, se siete genitori, nei rapporti con i vostri figli. Cercate di usare toni meno impositivi e più affettuosi con loro. I vostri amici vi reclamano, forse li avete un trascurati, presi come siete dagli impegni di lavoro. Rimediate con il vostro slancio umano sempre vincente. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 5, finanze, 6, benessere, 6. Gemelli. Cari gemelli, nel corso delle prossime ore di questo mese di marzo sarete ancora un po' stanchi e le città di Venere e Marte di certo non vi aiuteranno. Dovrete quindi pazientare un po'. La luna oggi si trova nel vostro segno fratello d'aria la bilancia e, vi alleggerisce l'umore e lo spirito. E così i transiti odierni mostrano un andamento positivo e per certi versi spensierato. Nell'acquario altro segno d'aria che con il vostro chiude la triade, sta navigando anche Plutone, a voi propizio al massimo. La settimana inizia in bellezza, con la piena in bilancia, segno d'aria intrigono al vostro e a Plutone Aquariano, che vi parla di viaggi, di desideri inconfessati e inconfessabili. A vostro favore anche il sole equinoziale in ariete, abbracciato al vostro astro guida Mercurio, che in fatto di dinamismo, razionalità, logica e favella, continua a mantenere la prima posizione in classifica. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 9. Finanze, 7. Beneissere, 10. Cancro. Cari cancro, l'amore, grazie alla luna e a venere, sarà per voi molto positivo. In particolare da martedì a mercoledì. Ma attenzione, a partire da giovedì ci saranno delle discussioni da dover affrontare. Cercate di restare calmi. Malgrado la luna sia dissonante, la vita familiare si svolge in maniera fluida, serena, senza particolari scosse e difficoltà. Solo in serata potrete avvertire una certa nota di apatia che riuscite ad alleviare rifugiandovi nel riposo notturno. Alto nel cielo allo zeniti il sole col suo raggio impietoso guarda tutto cercando la verità in ogni angolino. Suo aiutante Mercurio, logico e razionale e così estuto che non gliene scappa nemmeno mezza. Controlli loro e di voi la luna piena in bilancia, evidente che non siete in giornata, in azienda sotto l'occhio fin troppo vigile del capo, in famiglia con il partner imbronciato, i vicini malmostosi e la famiglia piena di pretese. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 5, finanze, 7, benessere, 6. Leone. Cari Leone, vi attende una settimana di grandi rivoluzioni in diversi ambiti della vostra vita. Ci saranno delle discussioni da risolvere sia sul lavoro sia con il partner. Cercate di rimanere calmi. La luna dall'amico segno della bilancia insieme a Mercurio e il sole vi fanno la corte dall'ariete. A contrastarvi restano invece Plutone e Urano dal segno nemico amatissimo dell'acquario e del toro, vi consigliano di non esagerare negli eccessi edonistici e soprattutto in o gastronomici, in particolare se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 9 al 14 del mese di agosto. Che grinta, quando vi sentite minacciati, e oggi per via di Plutone all'opposizione accade, cominciate a ruggire e a gonfiarvi per mostrare la vostra forza e la vostra imponenza. Meno male che a ridimensionarvi, ricordandovi le regole del Bonton, entrano in scena la luna piena, garbata e raffinata in bilancia, in se stile ai suoi dirimpettai, il sole arietino accompagnato da Mercurio con l'argento vivo addosso. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6, attività, 10, finanze, 9, benessere, 8. Vergine. Cari Vergine, Venere nel corso delle prossime ore continuerà a mettervi a dura prova e a creare qualche problema alla vostra relazione. Siate pazienti e cercate il dialogo con il partner. Nel segno opposto e complementare dei pesci, registriamo la presenza di tre forze planetarie a voi ostili, si tratta di Venere, di Saturno e di Nettuno. Voi non demordete, però. Continuate a essere intuitivi, a percepire i dati che si muovono nella realtà in maniera fulminea, servendovi della vostra intelligenza analitica da un lato, ma sfruttando dall'altro soprattutto questa percezione superiore che vi viene fornita da uno splendido giove in toro ricettivo e capace di sondare nel profondo. È sempre merito del Dio, il riuscire a creare o a ricreare un'armonia all'interno delle pareti domestiche in special modo se festeggiate il vostro compleanno nella seconda decade. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 9, finanze, 8, benessere, 7. Bilancia. Cari bilancia, durante le giornate di domani, mercoledì e giovedì prestate particolarmente attenzione. La luna vi sarà ostile. Prevista un po' di leggerezza a partire da venerdì. Tenete duro ancora per un po'. Coraggio. La luna, entrata nel vostro segno è molto positiva, vi facilita molti aspetti dell'esistenza specie se siete nati della prima decade. Da stasera osservate note di rinnovamento dentro e fuori di voi. La famiglia inizia a darvi soddisfazioni considerevoli. Profilo astrologico di fine mese che va lentamente ma progressivamente schiarendosi per voi bilancine e bilancini. Protagonisti con la luna piena nel segno, tonda, perfetta, luminosa, come il volto di una dea bellissima che si affaccia tra le nubi, corteggiata dal sole all'opposizione, insieme a Mercurio, entrambi in ariete. Affare da mediatore tra i due Plutone, che d'amore, nel senso erotico del termine, se ne intende parecchio, se una discussione c'è stata la pace si fa a letto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9, attività, 10, finanze, 8, benessere, 9. Scorpione. Cari Scorpione, finalmente sarete interessati da un bel transito di Venere che vi regalerà delle belle giornate, in particolare durante il fine della settimana che chiuderà il mese. Il team Venere, Nettuno, Saturno nel segno amico per la pella, poiché facente parte della vostra famiglia d'acqua, dei pesci, pone un quadro notevolmente positivo che si dipinge davanti a voi. Nel vostro vocabolario odierno non manca la sensibilità, l'intuito, l'affabilità verso l'ambiente circostante non è neppure estraneo l'intuito, data avida una luna efficacissima nel segno amico della bilancia, che vi rende capaci di spaccare un capello in quattro e di vedere lucidamente in faccia, senza infingimenti, la natura delle cose. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6, attività, 5, finanze, 6, benessere, 5. Sagittario. Cari Sagittario, attenzione e pazienza durante le giornate di oggi e di domani. Ma attenzione, durante tutta la settimana ci saranno delle questioni da risolvere a causa di Venere in opposizione. Cercate di restare calmi e freddi. Continua la sosta del duo fortunato Sole, Mercurio nel fidato amico Ariete, una ritrovata armonia con l'ambiente della famiglia e degli amici è il segreto o, meglio il talismano, per ritrovare il vostro coinvolgente sorriso. Perché fronteggiate oggi Marte, Venere, Saturno e Nettuno nel segno nemico amatissimo dei pesci, che possono portarvi qualche complicazione nello scorrere della giornata. Nulla di grave, per la verità, soltanto un po' di irrequietezza mentale e fisica, un desiderio di evasione dalla consuetudine che vi può caratterizzare quest'oggi. Pagellina del giorno Sentimenti, 10, Attività, 10, Finanze, 6, Benessere, 10 Capricorno Cari Capricorno, l'amore continuerà a essere davvero fantastico nel corso delle prossime ore di questo fine mese. Per quanto riguarda il lavoro, le stelle vi aiuteranno nel risolvere alcune questioni rimaste in sospeso. Le indicazioni astrali stanno prendendo una direzione per voi molto felice e vanno addirittura ad arrivo della fortuna. Ne dà l'annuncio Marte, che nel segno dei pesci, vi dona un umore alto e la facilità di intendervi bene con l'ambiente circostante dei conviventi e degli amici di vecchia data, specie se siete nati in dicembre. Giornata no, contro di voi remano la luna piena malmostosa lo zenit in quadratura e il sole insieme a Mercurio. Incomprensioni su tutta la linea, in azienda, in famiglia, nel vostro entourage. In più vi ritrovate a combattere sul fronte finanziario, le vacanze costano care, a ormai che siete in ballo vi tocca ballare. Vorrà dire che per le rate del mutuo dovete stringere i denti e fare cinghia. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6, attività, 4, finanze, 6, benessere, 5. Acquario. Cari Acquario, secondo l'oroscopo di Paolo Fox di oggi con Mercurio in congiunzione durante la settimana che vi porterà sempre di più nella primavera potrete aspettarvi qualche bella sorpresa da godere fino in fondo. Coraggio. Il vostro carattere aperto, flessibile, adattabile a tutte le situazioni, riesce oggi a sfruttare anche quello che inizialmente sembrava poco conveniente e a modellare la sua personalità camaleontica in maniera da uscirne sempre vincente. Perché il messaggio dei pianeti vede alternarsi aspetti positivi con altri meno esaltanti o ambigui per voi. Plutone è sempre favorevole in congiunzione nel vostro segno, mentre Urano continua a guardarvi imbronciato dal segno del toro. Con la luna vagabonda al plenilunio nel segno amico della bilancia non fate che pensare a itinerari, musei, monumenti, tutto quello che vorreste comprimere nell'arco di pochi giorni, esagerati come sempre, più di sempre. Impossibile coniugare come piacerebbe a voi natura, cultura, relax, divertimento, cucina, con una manciata di giorni, così come tentate di stipare in un mini trolley una tonnellata di vestiti e oggetti. Il sole arietino entusiasta, insieme a Mercurio, vi suggerisce che vi occorrerebbe almeno un mese. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9, attività, 10, finanze, 9, benessere, 10. Pesci. Cari pesci, con Venere in congiunzione potreste fare qualche bell'incontro nel corso della settimana di fine marzo che parte oggi. Apritevi agli altri. Cercate di guardarvi intorno con cuore aperto e testa sulle spalle. Finalmente è arrivato il momento che gli astri si dispongano in modo più fortunato per voi. Saturno, Nettuno, Venere e Marte sono infatti dalla vostra parte e promettono un tono vitale in ripresa, un'ottima tenuta delle facoltà mentali e una completezza affettivo-erotica come non vi succedeva da tempo. Avvertirete positivamente il pieno favore degli dèi celesti che vi produrrà una sensazione di vera e propria rinascita, preparandovi a una primavera decisamente migliore di quella dell'anno precedente. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9, attività, 6, finanze, 8, benessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo!